A seguito dell'emergenza Covid-19, la Regione Veneto ha deciso di prorogare la possibilità di presentare le domande per il bando per la rottamazione degli autoveicoli inquinanti di 30 giorni, fissando la nuova scadenza al 5 maggio 2020. Obiettivo non limitare la possibilità di partecipazione dei cittadini al bando in corso per la concessione di incentivi che possono arrivare fino a 4.500 euro per la rottamazione di veicoli inquinanti con conseguente acquisto di nuova auto. L'assessore regionale all'ambiente Gian Paolo Bottacin, nel dare la notizia, ha annunciato anche un'altra iniziativa volta a migliorare la qualità dell'aria promossa dalla Giunta regionale. È stato infatti approvato un bando che prevede la concessione di contributi per installare dei preriscaldatori sui mezzi di trasporto pubblico con l'obiettivo di abbattere le emissioni inquinanti. L'iniziativa riguarda la conduzione di un'attività sperimentale, spiega Bottacin, con il coinvolgimento delle società di trasporto pubblico operanti sul territorio regionale, volta a verificare la possibilità di abbattimento delle emissioni nei motori a ciclo diesel utilizzati nel parco mezzi circolante. Nella fattispecie, il bando prevede di assegnare un contributo economico alle aziende che metteranno a disposizione alcuni loro mezzi di varie classi emissive per la sperimentazione. La regione attribuirà dunque un contributo pari a 2.500 euro per ciascun veicolo sottoposto a sperimentazione a ristoro dei costi che dovranno essere sostenuti per l'acquisto e l'installazione dei preriscaldatori, oltre ai costi per il trasferimento dei mezzi scelti verso i laboratori di ricerca che Arpav indicherà. All'agenzia, infatti, è stata affidata la direzione dello studio che avrà una durata di 18 mesi.